eccoci qui come è stato un saluto a tutti ben ritrovati una buona giornata una buona domenica da milanello la casa dei milanisti su youtube vi invito come sempre a commentare numerosi e lasciare un bel like se amate il milan chi non lascia un like ti fa la seconda squadra di milano iscrivetevi da questa parte attivate la campanella andiamo verso i 104 mila ma verso i 20 mila sul mio canale personale qui sotto c'è il link non è milanello è il mio canale personale in cui parlo di calcio di milan soprattutto con breaking news qui sotto grazie per chi si iscrive mi piacerebbe arrivare presto a 20.000 iscritti rispondo le vostre domande poi più tardi ovviamente parliamo anche della partita ma magari qualcuno tocca anche il tema partita formazione non solo ingredienti andiamo perché siete scatenati sulla community e grazie perché siete sempre più numerosi e attivi allora matteo questo atteggiamento così passivo è dovuto forse l'area di cambiamento che sta tirando sullo sfondo infatti c'era il cambiamento di proprietà e tecnico non proprio cosa da poco allora sul cambio di proprietà vediamo per quanto riguarda il resto il cambio tecnico per forza ma io sinceramente l'atteggiamento passivo lo vedevo più forse prima che adesso lo vedevo più quando le cose andavano appunto peggio di adesso in generale è stata una stagione un po un po' deludente un po' particolare quindi non credo che sia dovuto alle voci dovuto semmai al fatto che comunque al di là delle voci il ciclo di pioli è finito e forse doveva finire già la scorsa estate come chiedeva paolo maldini quale centrocampista può arrivare visto l'addio di krunic vediamo terracciano può essere un jolly vediamo se ci sono opportunità al momento è complicato rispondere su drago dello c'è anche 04 c'è una concorrenza importante tedesca Eintracht e Bayern Monaco abate speranza come traghettatore fino a fine stagione no pioli finisce la stagione sicuramente e poi ancora perché pioli schiera di tutto e di più anche mettendo parecchi giocatori fuori ruolo piuttosto che simic bella domanda evidentemente ragazzi uniamo i puntini è evidente che non si fida al 100 per cento di simic peccato perché secondo me quando ha giocato ha sempre fatto bene anche in coppa italia quando è subentrato e condivido molto fai giocare i giocatori per quello che sanno fare non adattandone diversi in ruoli non loro poi conta già l'accordo con la juve per sostituire allegri ha incontrato il milan per cautelarsi nel caso in cui la juve dovesse cambiare idea è enzo che fa questa supposizione vediamo di certezze non ve ne sono se non che ibra da quello che risulta me poi sono anche indiscrezioni diverse spinge per avere antonio conte poi ancora andiamo avanti perché non è stato cacciato ancora pioli per non darla vinta a maldini una piccola componente quella in generale perché signori la politica aziendale prevede che tu devi essere nei primi quattro posti il milano nei primi quattro posti sta raggiungendo l'obiettivo e quindi non lo mandano via per questo azzardo di giubo girardino sarebbe un allenatore da milan oggi no sarebbe già tu dici no oggi no mi sta stupendo molto sta facendo un attimo percorso con il genoa oggi no un domani chissà glielo auguro mi sembra tra gli emergenti uno dei più interessanti resoconto infortunati quando rientrano è un bel punto di domanda perché vedete poi spesso non vengono rispettate le tempistiche in ogni caso florenze sportiello con l'udinese tomori dovrebbe rientrare tra un mesetto e mezzo ciao e calulu vediamo tra marzo e aprile poi pobega anche lui insomma verso comunque la stagione che volge che volgerà al termine mi dimentico qualcuno ne abbiamo avuti talmente tanti ocafora invece rientra oggi in panchina secondo te conta arriverebbe anche con il fondo arabo rappresentato da maldini leonardo ed eventualmente massara secondo me avrebbe ancora più chance perché avrebbe ancora più possibilità di andare a incidere sul mercato come possiamo pensare che il nostro cardinale possa spendere ancora in questo mercato dopo 120 milioni spesi bene da vincere tutto questo lettore che manderà ha speso 120 milioni ma ne ha incassati anche tanti il bilancio del milan è in positivo quindi non mi sembra utopia matic può essere un profilo adatto per sostituire cronic il milan non vuole matic e poi conte in panchina buongiorno in difesa tonali al centro campo dirze in attacco sogno utopico fattibile con la venta di esuberi e il quarto posto allora secondo me l'unica utopia oggi è tonali perché livello di immagine il mio caso si deve sfoltire un po ma non credo che poi te lo ridà subito l'unica vera utopia secondo me è quella buongiorno non è un'utopia vediamo chi prendiamo a gennaio e se prendiamo un giocatore in prestito a maggior ragione bisogna fare il colpaccio in estate buongiorno piace tanto di kzee in mina si è mosso ufficialmente per lui vediamo poi tiago motta sicuramente non direbbe di no vediamo eventualmente conte il parere e poi ancora alessandro che saluto come tutti ovviamente siamo più debiti dello scorso anno a parte pur di ceo cafora gli acquisti non sono all'altezza buoni giocatori ma nulla di più manca come il pane sandrino tonali come brahim allora io non sono d'accordo con te nel senso che secondo me il mercato è stato molto positivo rendersi un giocatore davvero forte love to seek altrettanto deve come dicevo ieri fare il salto di qualità avere più continuità pulisic straordinario o cafora ha giocato poco ma ha fatto comunque ha timbrato sempre il cartellino quando ha giocato ha fatto anche un assist importante con newcastle per il resto musà vent'anni a vent'anni ha giocato comunque già tanto puoi deve crescere boccio romero e pellegrino ma anche perché insomma età e prezzo sono quello che sono e ciucchezze del quale spero possa uscirne poi il valore per me il mina è una squadra più forte il problema sono stati infortuni e guida tecnica più che una domanda esterno mio pensiero cardinale out vattene liberaci dal male dice alessandro conto chi per lui non entrerà mai in corsa offio il traghettatore non arriva come possibile che tanti finalisti rifiutano conte solo perché non ha fatto bene in europa intanto facciamo bene in italia poi si pensa in europa lui è ottimo var perfetto non ho obiezioni detto che magari ha bisogno di incontrare il dna europeo del minan per vincere anche in europa però iniziamo a tornare grandi in italia non vedo l'ora che più arriva da via ma anche la società però la peggiore della storia del minan scaroni in primis cosa ne pensi no ho visto di peggio furlani scusate fassone miravelli quel periodo lì era peggiore e anche con leonardo non è che stessimo tanto meglio però su su scaroni l'ho scritto anche oggi su milan news non ci siamo proprio e manca anche il concetto di empatia con frasi che non ci stanno mai lo scudetto un di più la coppa non dovremmo neanche farla perché siamo arrivati quinti la coppa italia ma mi sono chiesto a che serve c'è manca empatia che è un aspetto importante in una società poi ancora perché dovrebbe arrivare un allenatore che chiede le stesse cose per cui maldini fu cacciato la domanda del pier luigi la capisco ma maldini non è stato cacciato perché chiedeva altro maldini è stato cacciato soprattutto per i rapporti soprattutto perché il rapporto era estremamente conflittuale con il resto della dirigenza furlani e la proprietà e sarebbe stato cacciato anche prima se non avessimo vinto lo scudetto soprattutto erano rapporti altrimenti se ne sarebbe andato maldini se il problema era quello che chiedeva detto che conte con questa rosa secondo me può fare e può non chiederti più neanche la luna come magari in altre situazioni faceva situazione stadio di nuovo tutto fermo con san donato no ci sta muovendo questa può essere una settimana importante su san donato vediamo perché potrebbero esserci evoluzioni tant'è che è arrivato cardinale apposta vedrà la partita ma è arrivato per questione stadio e allenatore novità rinnovo di megnan al momento nulla calabria invece scadesse 2025 c'è stato qualche dialogo credo che verrà rinnovato senza troppi problemi per quale motivo se chi gestisce la società delle nostre passioni e delusioni non gli importa niente se gli importasse agirebbero in altro modo e includo anche i calciatori legati al minano solo per i soldi tanto sconforto per massimo se minano venduto rad ed è così tra l'altro è una formula diversa nel senso che è un prestito con obbligo di riscatto prestito con diritto che però è un obbligo quindi minano incasserà i soldi in estate sostanzialmente non adesso poi chi prenderà suo posto non si sa potrebbe non prenderlo nessuno pare che cardinale voglia vendere mila a due miliardi appena ci sarà la posa della prima pietra per lo stadio quindi i tempi sono lunghi allora lui vuole intanto ottenere un investitore e per la situazione di elliot che deve essere liquidato entro un anno e mezzo poi il discorso stadio potrebbe non essere necessario la prima pietra ma basta avere l'iter burocratico completato cioè le autorizzazioni quindi tempi potrebbero essere non così lunghi detto che ci possiamo augurare che si possa fare una soluzione intermedia cioè arriva un investitore come investitore quattro minoranza con la promessa che quando c'è lo stadio diventa poi l'azionista di maggioranza quando arrivano gli arabi è legato a questo il discorso poi ci sono possibilità che conte venga al minan sì prenderlo sarebbe una garanzia di impegno e sacrificio è perfetto li preferirei soltanto dei zerbi io sinceramente no non li preferirei né dei zerbi né tiago motta quale sarà il nuovo allenatore del milan scrive il nostro amico io dico uno tra conte e tiago motta a me piacciono entrambi però vedete abbiamo una proprietà che non ha i tifosi della sua abbiamo una dirigenza che non ha i tifosi dalla sua per colpa loro è empatia zero fatti deludenti scelte particolari come l'uscita di maldini eccetera eccetera pioli che comunque l'hai confermato hai avuto miliardi di infortuni non hai fatto nulla non hai cambiato nulla per questo insomma ti serve l'effetto shock la terapia d'urto serve ribaltare l'ambiente dare un segnale forte di ambizione vera perché se tu prendi a tonio conte hai la certezza che trasmette ambizione più di così quindi trasmette ambizione è garanzia tendenzialmente di cose fatte molto bene di massimo impegno di dedizione di abnegazione di applicazione cose che nell'ultimo anno sono mancate anche lo scorso anno di fatto di valorizzazione poi si dice non gioca bene io la juventus con conte la vedevo giocare anche bene detto che io voglio vincere il prossimo anno voglio entusiasmo conte che se serve sbatte i pugni batte i pugni conte che se serve che fai male una partita al giorno dopo faceva così alla continassa ti presentavi alle otto da noi hai perso due giorni di riposo musà nulla contro di lui che alza i calzettoni mentre tirano un calcio d'angolo in champions league distratto e prendiamo gol i soliti gol su palla inattiva una volta due la terza con conte non succede i tanti gol subiti lui aveva sempre le migliori difese mi fermo qui l'avete capito per me serve questa cosa qua uno che ti prende il minan e te lo ribalta come un calzino e se prendi conte non puoi dire a cardinale non ti interessa non hai ambizione caspita e il treno colte non passa sempre in questo caso passa io io direi di prenderlo poi ancora la domanda è semplice come è stato possibile arrivare a questo punto veramente penoso come è stato possibile tanti motivi una dirigenza inesperta una proprietà lontana poca ambizione infortuni a valanga un allenatore che doveva essere mandato via in estate perché maldini aveva capito che il ciclo era finito è rimasto e obiettivamente quest'anno ha fatto danni tutto questo insieme credo che sia la spiegazione perché si sia arrivati a questo punto a questo punto vediamo vediamo cosa succede siete scatenati sul nome di conte o in positivo o in negativo perché qualcuno non lo vuole io non ci penserei due volte poi con conte zirgze oppure oppure lukaku se è fattibile io sono sicuro che lui ti chiederebbe lukaku però è un conte di diverso è un conte che intanto non ha mercato all'estero non è convinto del napoli e al momento neanche della roma lui tornerebbe alla juve ma il sogno milan chi siamo noi per non realizzarlo scherze parte so che c'è qualcuno tanti che non lo vogliono però ragazzi dopo ancelotti ditemi un top coach che abbiamo avuto zero vabbè sì ancelotti allegri ha fatto bene e pioli ha fatto c'è fatto vincere lo scudetto però per me non sono top coach cioè allegri viene considerato un top coach a me non piace però ha vinto conte poi si dice conte ti ti lascia le squadre spremute ciao allegri è reddita un lavoro straordinario continua a vincere la juve grazie al lavoro di conte in zaghi non vince lo scudetto ma è reddita un inter che è scatenatevi e ci vediamo più tardi per altri aggiornamenti commentate numerosi lasciate un like iscrivetevi per me per me l'ho scritto anche oggi c'è solo un nome il top nome è antonio conte punto team conte non so se avete cambiato idea quelli dubbiosi vediamo le evoluzioni e sicuramente è una candidatura forte in quel di casa milan un saluto